Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video post partita del Napoli non è uscito il video, non sono riuscito a farlo per la partita contro il Bologna torniamo contro la Salernitana partita, che dire, dominata dal Napoli in lungo e in largo anche se nel primo tempo soprattutto la Salernitana è stata dignitosissima è molto dignitosa soprattutto per la situazione in cui si trovava perché ovviamente per gli otto positivi che la Salernitana aveva nel gruppo squadra il limite di positività, ecco, di giocatori positivi era di nove quindi diciamo che c'è stato il dubbio fino all'ultimo che la partita si potesse giocare alla fine è arrivata la conferma Napoli-Salernitana si è giocata e il Napoli che vince 4 a 1 contro la Salernitana che nel primo tempo, torno a ripete dignitosa dignitosissima assolutamente che meritava secondo me di chiudere la prima frazione con il pareggio e poi ci arriviamo partiamo dalle questioni che mi hanno fatto un po' arrabbiare allora quel gol preso da Bonazzoli per me è colpa di Fabian perché è colpa di Fabian? voi direte è colpa di Juan Jesus perché si è fatto saltare come uno stupido con il tacco di ho che poi è bello e buono colpo di tacco io non lo so facciamo proprio risvegliare i morti questa squadra fa risvegliare i morti che già per la situazione in cui stanno far segnare la Salernitana per loro già è un miracolo essere riusciti a fare un gol al Maradona contro il Napoli allora quindi dicevamo quel gol per me è colpa di Fabian perché non puoi affatto tutta la partita tutta la partita a fare insedimenti giustamente per muovere un po' la difesa e per trovare spazi centralmente perché alla fine di spazi se ne sono trovati pochi poi è arrivato Fabian Ruiz che stava 10 metri dietro a Bonazzoli e Bonazzoli che fa 1 a 1 dopo il vantaggio precedente di Juan Jesus che ci stavano a nullare pure questo cioè non so che sfiga potesse avere questo ragazzo prima di essere annullato quel gol alla fine il VAR vede l'azione ovviamente non è stato richiamato l'arbitro Pairetto e il suo arbitraggio lascia discutere e ha dato direttamente il gol a Juan Jesus il primo con la maglia del Napoli abbiamo parlato del gol 1 a 1 adesso arriviamo alla questione calci di rigore allora il primo il primo calcio di rigore tralasciando il fatto che ce n'era uno netto per su Mertens per giunta su Elmas allora su Elmas mi sento di dire un 60 e 40 per il no perché non c'è il contatto proprio esagerato però ho visto da una foto un replay abbastanza bene un tocco del difensore della salernitana sul piede di Elmas che fa una serpentina bellissima arriva in area di rigore e viene steso da Meseli che viene ammolito poi verrà anche spulso allora e quindi calcio di rigore ripeto 60 a 40 per il no calcio di rigore per il Napoli lo batte Mertens Ciruzzo io ti voglio tanto bene per favore Aurelio De Laurenti se l'innova questo signore qua perché ci serve veramente tanto e e quindi arriva il 3 il 2 a 1 per il Napoli arriva questo retroscena che nell'intervallo Spalletti non era contento della prestazione dei suoi perché aveva paura di rivedere gli stessi errori fatti contro lo Spezia e devo dire che ha ragione signore ha ragione perché finire 1 a 1 con la Salernità nel primo tempo sarebbe stato giusto ma comunque scandaloso per una squadra come il Napoli che poi la chiude nel secondo tempo con i gol di Amir Rachmani e il secondo rigore che è sicuramente più rigore di quello che hanno dato prima su Elmas perché è vero l'hanno detto anche gli esperti è vero che tocca prima il fatto che tocca prima il petto non vuol dire che il braccio non sia punibile perché il movimento da quel che dice il regolamento che fa anche Rima non è congruo il movimento del braccio di Veseli che viene anche espulso su questo calcio di rigore insegna nel momento più delicato con due attributi grossi così così va a tirare il rigore e raggiunge Diego Armando Maradona con 115 gol nella storia del Napoli il secondo mi sembra il secondo marcatore più prolifico del Napoli dopo Mertens e quindi scrive anche lui una pagina di storia di questo club poi il gesto di indicare lo stemma comunque dimostra ancora un legame forte alla città e alla squadra del Napoli vuoi arrivare alla situazione di classifica Napoli che è secondo a 49 punti a pari merito con il Milan che è parigiato 0-0 con la Juventus risultato ideale per il Napoli l'Inter che scappa siamo a meno 4 il 6 febbraio ci sarà il Venezia e poi ci sarà lo scontro diretto con l'Inter e lì ci giocheremo un bel pezzo di tricolore al Maradona contro la Capolista che ha vinto 2-1 con il Venezia un po' a fortuna e signori e signori fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti di questo Napoli che vince 4-1 contro la Salernitana e se riuscirà a conquistare questo tricolore che manca dal 90